Siamo giunti nelle nostre camere I biglietti devi prendere Sì lo so, molto carino Molto molto carino Peccato che già è tutto prenotato Ma ci abbiamo le bottigliette qua Ci stiamo preparando Eccoci qua Tutte le cose posate Pronti? Andate tutti a me Che vuoi dire te 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 te? Sono quattro giorni Quattro giorni per uno Ah un biglietto per ogni giorno Fabri Giri i pollici Devi girare i pollici Sì che leggi qua, scusa io sono scemo La data? 29, 30 L'intero 4 giorni, 29 e 10 30 e 10 Non c'entra più niente che passi più Fabricio, giri i pollici C'ha ragione Giusto E' i soci a c'è Sto a dire Lo sai prima, ieri corso prima, uno gli ha fatto la foto Intanto c'ha un franco di dietro Fili, siamo di qua Eh, pure io sto qua E' lui Per Dio Ma ne va fatta questa Ma ne va fatta questa Ma ne va fatta questa E' un'altra E' un'altra E' un'altra E' un'altra E' un'altra E' un'altra La telecamera è tua Sì eh E' un'altra 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 Anche E' un'altra C'è la Dina E' un'altra E' un'altra E' una E' un po' di E' un po' di Sì 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 Dai, Efra! Stamattica era quello si celebrava No lo senti ce n'è chi va, le menti per il tuo cuore Vai tra, movimento Grazie. 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 La prossima prima del DTT non è più possibile guardarla con gli stessi oschi. è il più possibile guardarla con gli stessi occhi ma lui può fare solo sasso siamo pronti ci siamo cambiati voi no adesso raggiungiamo crissia crissia batwain ce l'aveva mangiata la ciccia confermato amore sei pronta vogliamo andare è il san di prato quello verde andiamo a raggiungere petrozzi ma che sei te? è il figlio che sta con il marchese che se ti beccavo adesso effetti della droga effetti di lucca ci mangi e ci dormi no? è il fritto è il ginagno è il marbuso il marichetto è il marichetto il marichetto il marichetto il marichetto cosa facciamo pure il citofano a casa? si non ce l'ha il cazzo io gli ho battezzarro eccesso battezzarro vuole visto vedi che cosiddetto è tutto il mondo questo col cazzo ci ha aiutato a rinagare mi sono messo all'altro tra metterlo tra la miscela non è buona se il culo tu risuona la miscela non è buona se il culo tu risuona mi sta ammazzando mi sta a sentire il marro ma è un marrovescio ecco ecco allora vieni vieni chi soffa lo sta a cantare in città vieni dai vieni come si sti la mela sbrago succhia vongole la succhia vongole visteva dell'individuo visteva dell'individuo ma i padlioni ancora chiudono? È 19, non è 21 Ecco perché Cristia stava chiudendo Non è uscito più ancora C'è ogni anno Ma perché ha aperto Che cosa? Te l'ha messo a Poglio? No, mica è qua Mica me l'ha preso qua la Cappatoria Cappatoria